nel 1944, il 20 luglio, e loro hanno fatto un tedesco alla Samaña. In Samaña aveva fortuna perché questi tedeschi avevano tutta la famiglia, che avevano visto lì che era lì, e se no, facevano tutta la famiglia. E loro, che lei non potete colpe in isho, andate in talpargione fuorle, e tolete il cioccolato, dove i amassatele, e dove i amassatele a qui in picchette fuorle. E loro datano un'andasmovda sempre curiosi, andasmovda, ma era meglio di non vedere. Due tedeschi che erano da Samaña, da Samaña, passò uno, un individuo, gli sparò, questi tedeschi, però uno venne ucciso e l'altro no, perché se no, se venivano uccisi tutti e due, il bagnile lo bruciavano. Grazie. Grazie. Grazie.